molto difficile non mi hai più chiamato neanche per Natale chissà cosa fai e se ancora scrivi le tue poesie sui muri noi qui nel frattempo ci stiamo preparando al meglio e dopo l'inverno nell'aria è già l'estate che verrà dopo l'inverno nell'aria è già l'estate che verrà ho imparato ormai come ci si prende cura del tumore e come si fa a custodire lacrime e paure siamo a buon punto ci stiamo preparando al meglio pronti all'assalto di un cielo grigio che si schiarirà e tutto intorno non è più inverno è un po' non è più inverno noi qui nel frattempo ci stiamo preparando al meglio siamo a buon punto ci stiamo preparando al meglio e tu lo sai siamo dei sopravvissuti a grande non è più inverno dispersi ormai a inseguirci come petali in un fiore in un fiore noi qui nel frattempo ci stiamo preparando al meglio siamo a buon punto ci stiamo preparando al meglio siamo a buon punto ci stiamo preparando al meglio qui nel frattempo ci stiamo preparando al meglio siamo a buon punto ci stiamo preparando al meglio Grazie a tutti per aver guardato il video. Grazie a tutti.